Grazie a tutti. Eccoci qua, i microfoni di Lecco FM, Simone e Anna. La scorsa domenica a Casale avete sofferto un pochino il campo, specialmente nel primo tempo, poi invece c'è stata una bella reazione corale che ha portato ad altri tre punti e siamo a punteggio pieno. Domenica prossima invece affronteremo in casa sul nostro sintetico il Borgosesia. Che partita c'è da aspettarsi? Sì, partiamo da domenica scorsa, partita precedente, che non è stata affatto facile. Il Casale era una squadra molto organizzata, ben messa in campo, però diciamo che abbiamo trovato un po' di difficoltà in più per quanto riguarda il campo, che non era nelle ottime condizioni, perché noi in quanto una squadra molto abile nelle giocate, nello stretto, molto tecnica, siamo andati un po' in difficoltà. Però una volta che poi ci siamo abituati, siamo entrati nello spogliatoio, ci siamo detti che questa partita la potevamo fare, abbiamo fatto due gol di ottima fattura. Per fortuna abbiamo portato questi tre punti a carta molto fondamentali. Invece per domenica col Borgosesia una formazione di media classifica, sulla carta non destra particolari preoccupazioni, però come spesso il calcio insegna non vanno sottovalutate neanche le piccole. Assolutamente no, perché il Borgosesia è una squadra anche se molto organizzata, anche se è una media molto bassa, diciamo, molti ragazzi, però non significa nulla. Nessuna partita è facile, il girone a mio avviso è un girone bello tosto, dunque tutte le partite vanno giocate con la giusta mentalità. Il vostro umore com'è? Allora, non è un mistero che l'entusiasmo da parte dei tifosi sia molto alto, l'obiettivo stagionale si sa già qual è. Voi come lo state vivendo? Noi lo viviamo partita dopo partita, perché è fondamentale guardare ogni partita, è fondamentale vedere il prossimo avversario, poi le somme le tireremo più in là. Ancora troppo presto per parlare di campionato, noi facciamo il massimo per portare sempre i punti a casa. Grazie mille, ci vediamo domenica. Grazie a voi. Siamo con Riccardo Capogna, che dopo essere stato uno dei protagonisti l'anno scorso a Gozzano, è tornato a Lecco e mi sembra nella tua forma migliore. È un'impressione così? No, sì, l'anno scorso è stato un campionato bellissimo, quest'anno è tutt'altra cosa, perché tra Gozzano e Lecco, con tutto rispetto per Gozzano, insomma, non c'è paragone di piazza, di storia, quindi sarà un campionato molto più difficile, perché poi provare a vincere queste piazze è più difficile. Io personalmente sto da Dio e devo dare continuità perché, insomma, ogni partita è fondamentale. Parliamo in particolar modo di domenica. Con il Gozzano ha già affrontato il Borgo Sesia. L'anno scorso che squadra vi aspettate? È una squadra giovane che corre da tutto in campo, ben messa, ben allenata, però, insomma, noi, come ho detto prima, l'obiettivo ce l'abbiamo in testa, ci alleniamo per quello ogni giorno duramente, domenica sappiamo quello che vogliamo e ce l'andremo a prendere. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille.